Wine Soundtrack Educational Impara con noi a muoverti tra i termini più diffusi e utili nel mondo del vino Ascolta il termine di oggi Surmaturo, riferito a vino carente di acidità, seduto e fiacco Rappresenta un difetto irreversibile Hai trovato utile il termine di oggi? Segui Wine Soundtrack su Facebook, Instagram e Twitter Oppure visite il nostro sito www.winesoundtrack.com